In genere quando si arriva sempre quasi alla fine delle serate si fa anche il bilancio, si gettano le basi per il futuro. Abbiamo sentito i ragazzi a Polisportiva, ragazzi del posto che insomma hanno detto ci piacerebbe magari continuare questa partnership con Arezzo Wave. Guarda, ancora è prematuro, stasera facciamo questa cosa. Questo è un posto sicuramente bello, se ci si gira e si guarda là c'è un posto che potrebbe contenere anche 80.000 persone. Quindi c'è un spazio per crescere, se si vuole guardare questa zona qua. Questo è lo scoop che diamo, insomma, nel senso che qui ci può entrare anche Vasco Rossi. Quindi insomma, se le cose andassero bene, però insomma noi abbiamo delle richieste a Perugia, abbiamo delle situazioni in ballo, ci sono tutta una serie di iniziative e vediamo come va stasera, insomma. Se poi non vi è nessuno, magari allora si giuderà, però se tutto va bene, la cosa nasce cosa. Intanto ringrazio il comune di Civitella che è stato veramente coraggioso, perché noi siamo una macchina impegnativa, come il Barcellona che va ad allenarsi a Foiano, insomma, in qualche modo destabilizza la situazione, o il Bayern. Però siamo anche qualcosa che ai ragazzi del posto e anche alle persone gli può dare anche una carica in più e un senso di appartenenza a un progetto che tutto sommato da tutta Italia conoscono e anche fuori. Quindi oggi albergo non è soltanto un posto dove andare a dormire, ma è anche un luogo dove si svolge un festival che ha una fama internazionale che porta il nome di albergo fino a Arezzo, insomma, in giro per l'Italia, per il mondo.